A inguaiarlo è Francesco Giorgio, suo ex assistente, Andrea Cozzolino, europarlamentare per il PD. Da ieri sera è nel carcere di Poggio Reale con le accuse di corruzione e riciclaggio. Il mandato di arresto è stato firmato dal giudice belga e apre un nuovo capitolo sul caso Qatargate. Secondo i magistrati belgi, ha ricevuto soldi e regali dal Marocco. Il suo collega socialista Marc Tarabella è in stato di fermo. È stato preso in custodia con un blitz nel suo paese. Il suo ufficio al Parlamento europeo è stato sottoposto a sequestro. Il giudice deciderà ora se trasformare il fermo in arresto. Al collega italiano l'arresto è stato notificato dalla Guardia di Finanza a Napoli dopo essere stato dimesso da una clinica dove era stato ricoverato. L'ufficio dell'eurodeputato del PD, oltre a quello di Marc Tarabella, è ora sotto sequestro. La Polizia federale belga ha poi perquisito anche la residenza di Cozzolino nel quartiere di Bruxelles. Il 2 febbraio il Parlamento europeo aveva deciso di revocare l'immunità a entrambi. Gli inquirenti ipotizzano invece un loro coinvolgimento nella trama di corruzione organizzata dall'ex eurodeputato ora pentito Antonio Panzeri, che ha portato in carcere anche l'assistente Francesco Giorgi e l'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili. Dagli elementi raccolti dai servizi segreti del Belgio appare che anche Cozzolino, insieme ad Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, abbia ricevuto direttamente dei fondi dal signor Atmon, l'ambasciatore del Marocco in Polonia. Cozzolino, viene spiegato, aveva contatti diretti con Atmon e il 1 giugno 2022, durante un incontro a Varsavia tra i due, ha ricevuto un'onorificenza e una gravatta.